I posti a sedere su bus e treni regionali e locali possono essere tutti occupati al 100%. Lo prevede la nuova ordinanza firmata giovedì dal presidente della regione Stefano Bonaccini che indica le nuove misure per il trasporto pubblico locale insieme alle linee guida per gli ipodromi. In particolare sui mezzi pubblici si potrà derogare all'obbligo del distanziamento interpersonale di un metro ma restano l'uso della mascherina per tutti i passeggeri e un'adeguata igienizzazione delle mani o in alternativa l'uso dei guanti. E poi entrate e uscita dei mezzi restano separate e va garantito il ricambio dell'aria in modo costante attraverso gli impianti di condizionamento e mediante l'apertura delle porte esterne durante le soste. Va inoltre prevista una pulizia periodica e una disinfezione dei mezzi con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente. Per quanto riguarda gli ipodromi invece valgono le disposizioni già indicate per le altre attività come ad esempio quelle turistiche per gli spettacoli ed intrattenimento, informazioni dettagliate per gli utenti, mantenimento di un metro di distanza e percorsi dove possibile separati per entrate ed uscita evitando rigorosamente gli assembramenti. Inoltre mascherina obbligatoria per tutti nei luoghi chiusi, adozione di sistemi di prenotazione, pagamento ticket e moduli preferibilmente online con se possibile nel rispetto della privacy registro delle presenze da conservare per almeno 14 giorni. Infine pulizia e ricambio d'aria frequente.